Tempo reale. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo reale venerdì, finalmente venerdì, 13 di ottobre, finalmente venerdì per quelli che abitano nel comune di Rimini, domani è anche festa, quindi per me è festa. E credo che finisca anche il TTG. Finisce il TTG, quindi è una doppia festa. Perché anche stamattina in strada diciamo che ci si muove con qualche difficoltà, ma teniamo in considerazione che queste fiere per Rimini sono manna e non solo per la fiera, ma anche un po' per tutto l'indotto che stanno creando, anche perché sono giornate splendide, quindi probabilmente anche questi congressisti poi una volta che tornano in albergo, a mio avviso una passeggiata, uno spritz, una cena di pesce, insomma è più piacevole uscire, quindi sopportiamo, diciamo così. Buongiorno caro Andrea, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando anche in questa mattinata di venerdì appunto per i riminesi prefestiva, visto che domani, beh quest'anno poi trovo il fatto che viene il sabato, tu non avresti comunque lavorato. Quanti anni ho lavorato? Tu quest'anno ho detto quest'anno non avresti comunque lavorato, ti ho lasciato a casa anche domenica. È venuta casuale la cosa sicuramente. Anche domenica, quindi riposati lunedì, voglio vedere fresco come una rosa, bello come un fiore, rilassato come una bambaggia. 337-511-336, questa mattina è la vostra mattinata, voi sapete che il venerdì a noi piace leggervi, commentarvi, ascoltarvi, per cui approfittate di noi come sempre, utilizzate questo numero anche per le fotografie del nostro concorso senza premi che è appunto quello delle vostre foto dei piatti del giorno. Le abbiamo già, le abbiamo già, ma le mostriamo dopo. Io ho un arrosto di maiale con sughetto di verdure e purè davanti a me. Esatto. Buone il purè, mamma mia da quant'è che non lo faccio. 337 stasera faccio il purè. Bene, tanto ci sono le buste. No, non mi piace il purè in busta. Io faccio il purè tradizionale, quello fatto con le patate vere. 337-5. Le buste ci mettono quelle finte. Ma se sono leofilizzate, avranno un sentore di patata. Possiamo andare avanti? Vai. 337-511-336, questo è il numero per i vostri sms e whatsapp, li aspettiamo con grande desiderio e poi chiaramente la nostra pagina facebook di tempo reale. Mi volevo scusare anche con tutti i produttori di purè in busta per quello che hai appena detto e anche mi volevo scusare con gli ascoltatori perché tu tieni il volume del tuo cellulare così alto. Non era mai successo quest'anno. No. Non era mai successo. Ti spiego perché è successo. Perché allora vi do un consiglio. Vi do un consiglio. Matteo dà un consiglio anche a te. Intanto ringraziamo Matteo. È interessatissimo, guarda. È molto interessante. Questa mattina mi capita per la prima volta di andare a vedere sulla nostra pagina di tempo reale perché qualcuno l'ha commentata e quindi si è riproposto perché ha già qualche giorno questa tua decisione. Sono andata a vedere il backstage del nostro spot che finirà a breve perché sono un paio d'estate. Finisce l'estate e finisce anche il nostro spot. Ma c'è tutto il backstage e Andrea ha deciso di pubblicare il momento in cui io mi metto a ridere in modo sguaiato. Adesso io pubblicherò invece la ripresa di Andrea perché se avete un momento di tristezza, ci sono quei giorni che proprio alzarvi vi fa fatica, affrontare la giornata, il lavoro. Tutti i giorni. Bene e allora se io vi mando il video di Andrea vestito a tutti quelli che me lo chiedono così poi se avete visto l'effetto che ha fatto a me sicuramente vi dà il buon umore. Quindi chiedetelo 337 511 1336. Hashtag video da Andrea estivo e quindi io ve lo mando subito e secondo me vi risolleverà tante giornate tristi. Tante tantissime così come delle nuove telecamere che si accendono nell'acqua del centro storico. Ma anche qui dalle nostre parti? Perché sei interessata? Certo che sono interessata. È perché sai che ho cambiato mezzo di trasporto quindi devo chiedere l'accesso per la zona traffico limitato. L'avevi chiesto prima? Ma certo che l'ho chiesto. Ma non dicevi tanto le telecamere sono spente? Ecco diciamo che no Andrea stai scherzando. È chiaro che va sempre chiesto il permesso per accedere alla zona traffico limitato però le telecamere hanno spente. Tu lo chiedevi quando c'era la polizia locale lì e dicevi scusi posso passare? Ho chiesto il permesso. Io ho chiesto il permesso. Adesso devo rifarlo. Tu sai che per accendere queste telecamere in alcuni casi per posizionarle è necessario avere il via libera da parte del ministero competente. In questo caso ci ha messo un pochino il ministero a darlo questo via libera. Avevano altre cose da fare, più urgenti, non lo so. Comunque ieri l'amministrazione ha ufficializzato l'arrivo di questa documentazione ma non è che in 448 domani si accende perché ci sarà tutta la fase di posizionamento dove ancora non ci sono e poi ci sarà tutta la fase di preesercizio. Quindi se le cose andranno come devono probabilmente ci vorranno ancora dei mesi. Si parla del primo semestre del prossimo anno. Ma sentiamo i dettagli in questo servizio. Il ministero delle infrastrutture dei trasporti ha trasmesso al comune di Rimini l'autorizzazione per l'installazione delle telecamere di controllo nella ZTL del centro storico. La nuova zona a traffico limitato operativa tutto l'anno prevede 13 varchi funzionanti con orari differenti. Rispetto all'assetto precedente il nuovo perimetro si amplia via d'Azzeglio e via Bastioni Occidentali da via Bonsi fino a Largo Unità d'Italia a protezione delle riqualificate Piazza Malatesta e Piazzetta San Martino. Tra le aree coinvolte anche quella del rione Clodio dove la ZTL è solo notturna. Da tempo i residenti contestano il passaggio di un consistente flusso di traffico lungo il tratto iniziale del corso d'Augusto e lungo la stretta via Ducale inidonea a sopportare il passaggio di tanti mezzi. Oggi il comitato del rione ricorda come nel dicembre 2021 l'amministrazione avesse spiegato che la telecamera nella zona di Corso d'Augusto via Ducale sarebbe stata accesa in anticipo rispetto alle altre. Confermata anche la pedonalizzazione del ponte di Tiberio e di via Letiberio nel tratto da via San Giuliano esclusa a via Marecchia compresa. Il sistema di controllo entrerà in funzione entro il primo semestre del prossimo anno con una prima fase di preesercizio così come avvenuto per la veta TL del Parco del Mare Nord. Insomma non tutti sono soddisfatti perché abbiamo sentito anche nel servizio ieri ci hanno ricontattato i residenti che fanno parte del comitato di via Ducale del rione Claudio ricordando e tra l'altro postandoci nella loro comunicazione anche una notizia da noi stessi pubblicata nel dicembre del 2021 dove a seguito di un'interrogazione in consiglio comunale del consigliere di Fratelli di Italia Renzi l'assessore Frigione diceva che insomma c'erano stati questi rallentamenti per le autorizzazioni ma che era intenzione far partire anticipatamente anche rispetto alle altre ZTL quella proprio legata alla zona del rione Claudio che ricordiamo essere già vigente perché dalle 8 alle 7.30 del mattino, sono 8.37 del mattino, vige già la ZTL notturna però come spesso hanno fatto presente gli stessi residenti se non c'è una pattuglia e non ci può essere sempre una pattuglia a verificare in tanti dato che le telecamere sono comunque spente continuano a passare per una strada che già di giorno è parecchio trafficata tra l'altro a tal proposito proprio nella giornata di ieri, chiedo se dalla regia si può mostrare questo video, i residenti hanno postato sulla loro pagina questa immagine che è un'immagine del traffico nella via Ducale perché ci segue in televisione si può vedere, insomma una via dove anche la larghezza è piuttosto esigua e questo è il traffico non solo dettato dal fatto che è in corso il TTG ma loro dicono insomma spesso in quest'orario della sera ci si trova a dover far fronte ad una molle e che belbiscione gli automobili in effetti insomma lo diciamo anche per chi in radio non può vedere le immagini, parliamo di una via dove al di là dei fittoni sulla destra e in parte sulla sinistra per il passaggio pedonale le case si aprono direttamente sulla strada perché è una strada che non era stata concepita ovviamente per una molle di traffico di questo tipo ma sappiamo anche che al momento l'amministrazione ha più volte detto che alternative non ci sono, nel senso per tanto tempo in sofferenza è stata un'altra zona del centro storico, quella di Borgomarina, Corso Giovanni XXIII ma adesso diciamo che la molle di traffico si è spostata su via Ducale però se non vengono create delle alternative, alternative allo stato attuale non ci sono e credo che non ce ne saranno per tanto tempo salvo questa possibilità con tutto quello che vuol dire però dal punto di vista della sicurezza poi i residenti puntano molto anche sul fatto dell'inquinamento perché sappiamo che il passaggio di veicoli specialmente a così stretta vicinanza delle abitazioni e delle finestre comporta una serie di problematiche anche da quel punto di vista guarda io penso che l'ipotesi primaria è questa cioè di un rallentamento del traffico salvo chi avrà un permesso nelle ore notturne quando arriverà il vigile elettronico perché evidentemente se oggi vedi il divieto ma c'è scritto varco aperto è evidente che se sei lì non sai dove devi passare cioè forse questa questa strada la fai comunque magari con il timore di incontrare la pattuglia ma forse rischiando se ci sarà il vigile elettronico a mio avviso dopo la prima la seconda multa la terza multa a comportamenti cambieranno probabilmente non cambierà invece durante il giorno perché ad oggi ma questo lo diciamo insomma tante volte noi abbiamo sollecitato anche l'amministrazione su questa su questo aspetto tante volte abbiamo ascoltato i residenti Andrea li è andate a trovare abbiamo cercato anche di porre almeno il dubbio ma non mi pare che non attraverso di noi che non contiamo nulla in questo caso ma anche tramite un dialogo serio con i residenti si riesca a trovare una soluzione al momento una soluzione alternativa non c'è salvo deviare il traffico proprio da tutta un'altra parte della città perché a suo tempo io ricordo anche che c'era l'idea che quando tu scendi verso il centro se siamo sui social perché non vedo io mi vedo ma secondo me non siamo condivisi ho questo timore perché effettivamente io non ho una pagina di fronte a me non la vedo volevo andare a salutare gli amici che di solito ci danno il buongiorno ma c'è qualcosa che non torna nella nostra pagina di temporale in effetti non c'è c'è la diretta ma non so bene come sia stata condivisa comunque vabbè se ci siete ci vedete fateci sapere battete un colpo come si suol dire però dicevo mi ricordo che a suo tempo si parlava del fatto che ci potesse essere la possibilità di fronte a piazza Malatesta quindi di fronte alla zona che è stata resa tutta pedonale di poter deviare solo verso destra quindi solo verso Riccione diciamo non permettendo più alle automobili di accedere dall'altra parte e portarle proprio su tutta un'altra zona per scendere anche verso il mare questo non è stato fatto stiamo parlando di tanto tempo fa per cui insomma vedremo anche se e quando potranno esserci delle risposte gli amici ci stanno proprio scrivendo che su Facebook non ci siamo e ci stanno guardando in televisione e chi ci sta ascoltando in radio ringraziamo chi ci ha fatto già pervenire messaggi in tal senso grazie grazie mille comunque insomma c'è tutto anche il tema e questa mattina i quotidiani ne parlano anche di come si potrà avere un pass chiaramente ci sono dei pass che data la residenza o la possibilità di avere un parcheggio interno si potrà ottenere proprio perché si vive e si lavora all'interno del centro storico quindi la zona traffico limitato ma ci saranno anche degli accessi temporanei per cui bisognerà chiedere saranno dei permessi digitali che verranno date per alcune ore ne parla proprio l'assessore Frisoni pass digitali e temporanei per cui insomma adesso manca ancora qualche mese ma forse è meglio cominciare ad avere le antenne ben sollevate per capire e non muoversi troppo tardi ma poi probabilmente lo faremo un po' tutti compresa me ed eccoci qua intanto continuano arrivarci messaggi chi ci vede in un modo e chi ci vede nell'altro grazie per averci mandato queste segnalazioni e in realtà qualcuno ci dice siete solo sulla pagina di Newsrimini dove tra l'altro c'è un buongiorno e quindi contraccambiamo quello di Sabrina a cui auguriamo anche a lei una buona giornata poi abbiamo anche altri saluti ringraziamo insomma chi ci ha fatto pervenire queste segnalazioni quindi diamo anche il buongiorno a Gianmaria, a Simona e un amico che si chiama Nunzio e che ci dà il buongiorno e il buon weekend e dice a Simona manda, manda il video lo mando Nunzio te lo mando guarda te lo mando sul tuo numero di Whatsapp perché a mio avviso è un ottimo stabilizzatore dell'umore ci sono tante persone ci sono tante persone che magari per farsi aiutare per stare un pochino meglio vivono dei periodi un po' faticosi prendono qualche compressa per migliorare l'umore quant'altro secondo me tu senza nessun effetto collaterale potresti essere d'aiuto e quindi vediamo vedremo di farlo Nunzio grazie per questa sollecitazione spero che altri la accolgano allora noi invitiamo invece che andare su a questo punto sulla pagina Facebook di Tempo Reale perché secondo me è Facebook che ci sta un po' boicottando ma poi cercheremo di capire cosa gli abbiamo fatto di male esatto, cosa gli abbiamo fatto di male di inviare i vostri messaggi al 337 511 336 per cui insomma anche lì siamo operativi attivi questa mattina rimaniamo un po' più sugli strumenti tradizionali bene, grazie però anche per queste segnalazioni perché c'è anche chi quindi ci segue sui social e questo ci fa molto piacere se siete vicino ad un computer e avete piacere comunque di seguirci in modo più digitale online andate sullo streaming di Caroplay noi ci siamo anche lì e quindi insomma facile facile lì non si può commentare però intanto avete modo di seguirci a questo punto torniamo ad aggiornare sull'omicidio di Pierina Paganelli perché sono emersi alcuni elementi anche se ancora il registro degli indagati è vuoto però è spuntato un audio un audio registrato da alcune telecamere di un garage vicino a quello dove è avvenuto l'omicidio che ha registrato non video ma l'audio del delitto diciamo tra l'altro Andrea per specificare ma come mai una telecamera qualcuno magari si chiede semplicemente un vicino di casa che temeva per ha attivato come spesso tanti di noi fanno anche nelle loro abitazioni una telecamera di sorveglianza chiaramente la telecamera si trova all'interno e quindi non ha ripreso nulla ma distintamente si sentano le urne della donna e quindi anche quel tema dell'orario esatto dell'omicidio di cui già parlavamo un giorno fa emerge proprio anche da questi dettagli veramente devono essere drammatici anche solo ascoltare quello che è successo ma ascoltiamo invece adesso il nostro Lamberto Abbati una telecamera all'interno di un box di via del ciclamino ha registrato le urla strazianti di Pierina Paganelli erano le 22.40 di martedì 3 ottobre quando l'assassino l'ha colpita mortalmente forse con un coltello per più di 15 volte in varie parti del corpo la telecamera che sarebbe stata posizionata da un condomino all'interno del proprio garage per difendersi da eventuali furti non ha ripreso il momento dell'aggressione ma ha registrato l'audio permettendo così agli investigatori della squadra mobile di collocare il momento esatto della morte della 78enne intanto nel primo pomeriggio di oggi sono stati nuovamente convocati in questura sia Manuela Bianchi la nuora di Pierina sia suo fratello Loris a cui la polizia di stato ha prelevato il DNA e le impronte digitali accertamenti di routine li ha definiti il fratello di Manuela che poi si è intrattenuto con i cronisti spiegando di essere rimasto a casa della sorella la sera dell'omicidio almeno fino alle 23 a provarlo ci sarebbero delle fotografie che Manuela gli avrebbe scattato col cellulare mentre lui giocava con il suo cane Loris Bianchi insomma continua a mostrarsi tranquillo di diverso umore invece l'uomo che gli inquirenti ritengono essere l'amante di Manuela questa mattina mentre rientrava a casa insieme alla moglie nel condominio di Vedelciclamino è stato accerchiato dalle telecamere ai cronisti che lo assillavano di domande ha preferito non rispondere doppicando ha preso l'ascensore e fatto rientro nel suo appartamento situato sullo stesso piano di quelli di Pierina e Manuela a otto giorni dal delitto le indagini coordinate dal magistrato Daniele Paci proseguono pazientemente alla ricerca dell'incastro dei vari tasselli trovare l'incastro di questi tanti tasselli non è affatto semplice giorni passano nel dolore nella costernazione di tutti coloro che hanno conosciuto questa donna che appunto anche tramite il ricordo dei suoi figli che abbiamo letto ieri era una persona piena di vita una persona desiderosa di aiutare gli altri una persona appassionata della sua famiglia dei suoi nipoti quindi pensiamo solo il grande dolore che sta vivendo la famiglia e poi anche un po' la costernazione di fronte a tutto quello che sta succedendo anche di come questo caso ma ai noi purtroppo sappiamo bene come avviene in questi casi ha un'attenzione mediatica che forse supera anche il rispetto stesso delle persone noi con tutto il rispetto per il lavoro dei colleghi che stanno facendo anche insomma hanno un impegno non semplice in questi giorni mettiamola così c'è però un altro dettaglio Andrea ti chiederei se è possibile di andare a leggere un secondo articolo che il nostro Lamberto ha scritto sul nostro sito che riguarda invece quello che è accaduto al figlio di Pierina Giuliano il figlio di Pierina e aveva avuto un incidente o presunto tale nel maggio scorso di un incidente Giuliano era stato trovato ferito gravemente a bordo strada lungo via Coriano era uscito di casa la mattina intorno alle 5 e 30 per andare al lavoro all'inceneritore di Coriano il suo turno iniziava alle 6 era stata anche la moglie era a 50 metri da casa quando è stato ritrovato nella mattina del 7 maggio e la moglie aveva lanciato anche un appello a chiunque avesse visto qualcosa era arrivato anche tramiti legali tra l'altro avevamo scritto anche noi a suo tempo però diciamo che in qualche modo se secondo i legali le gravi lesioni riportate da Giuliano erano incompatibili con una caduta accidentale facendo pensare ad un urto con un veicolo che procedeva ad elevata velocità o a una feroce aggressione in realtà poi le conclusioni alle quali sono giunte le altre indagini sembrano propendere proprio per un impatto con un mezzo anche se dopo l'omicidio di Pierina specie sulle tv nazionali la pista dell'aggressione a Giuliano magari collegata in qualche modo al delitto è tornata a farsi strada un'ipotesi che non sta in piedi però stando a quelle che sono le attuali evidenze si scontra con gli accertamenti svolti dal perito della procura che nella sua relazione parla di un colpo frontale a forte velocità contro un oggetto con una superficie ampia e piatta compatibile con lo specchietto di un veicolo alto come un SUV un furgone oppure un mezzo pesante esatto diciamo che questi elementi che sono emersi proprio perché a fronte di una continua ipotesi che ci potesse essere un'aggressione e un omicidio che potessero essere legati tra di loro perché effettivamente è un'ipotesi che tutti possiamo fare che ci sia qualche cosa o qualche legame diciamo che hanno dato dei dettagli insomma per cercare anche di tenere probabilmente distinte le varie cose in questo momento e lavorare più serenamente vedremo vedremo se sarà questa una giornata importante oppure insomma ancora si continuerà a lavorare ma senza una soluzione al caso noi lasciamo questa pagina della cronaca in qualche modo per via traverse sono riuscito a trovare la diretta si esatto bisogna andare per via traverse esatto lo dico per chi volesse in qualche modo al di là del cross posting sulle pagine di newsremen di caro tv sulla pagina cross posting invece transeunte è sempre più comprensibile comprensibile va benissimo la trovate se andate a cliccare sulla spunta di indiretta c'è proprio un link con scritto indiretta e lì trovate la trasmissione e c'è un messaggio del consigliere comunale 3V Matteo Angelini sul tema delle ZTL e lui dice come già detto più volte io ne faccio una questione di cultura e di rispetto reciproco laddove non interviene l'amministrazione devono essere i cittadini a mostrare solidarietà e preferire un giro alternativo a quello si parla appunto del passaggio sulla via Ducale questo è possibile se si mette in atto un'opera di sensibilizzazione fermo restando che per me la sicurezza e la salute vengono sempre prima di tutto per cui quel passaggio dovrebbe essere consentito solo ai residenti e che ha un'attività in zona queste le parole del consigliere chiaramente il tema della ZTL è un tema sentito poi quando arrivano queste notizie ci si desta e poi dice vabbè adesso comunque ancora in primi sei mesi del 2024 avremo modo di pensarci e vabbè però in effetti credo che sia fondamentale cercare di tutelare il più possibile la città anche dai mezzi che non ci dovrebbero entrare alle volte va in centro storico sembra di essere insomma sulla statale per il numero di automobili di mezzi anche che giustamente magari c'è anche il carico e lo scarico a mio avviso si è un po' superato il limite di questo di questo vincolo del carico e scarico e dei mezzi che sono solo autorizzati o che dovrebbero essere solo autorizzati per andare in centro storico un altro tema di grande interesse ieri diciamo che ci sono state delle novità è quanto è stato presentato un paio di giorni fa e noi ve ne abbiamo parlato nella mattinata di ieri sull'aeroporto Fellini diciamo che c'è questo ambizioso progetto presentato da Eriminum che è la società di gestione che si è fatta aiutare anche da una consulenza importante a livello internazionale per progettare la novità la novità è che arrivano i soldi cioè nel senso allora tu l'hai letto il pezzo io l'ho letto il pezzo cioè il titolo sembra che i soldi siano già lì pronti attenti via in realtà di dichiarazioni ufficiali non ce ne sono questo è sempre il lavoro giornalistico dietro trattative sotto traccia però appunto l'operazione che effettivamente cioè diciamo che Andrea le dichiarazioni nei giorni scorsi anche in quella conferenza dove è andato il nostro Maurizio fanno pensare che questa trattativa effettivamente ci sia sia avviata e sia abbastanza interessante perché un'operazione condotta insieme dal comune da Ieg con la PT per trovare per mettere in campo due milioni di euro proprio per i nuovi voli però non è che sono già lì quei due milioni di euro diciamolo che non è che è un accordo già sottoscritto si sta lavorando a esatto diciamo che questa è una notizia che già da tempo circolava insomma l'interesse di Ieg entrare nella società o in qualche altro modo APT già da tempo si sta impegnando e ha preso impegni per la promocommercializzazione delle tratte aeroportuali riminesi il comune di Rimini cerca di fare un po' da regista della situazione sappiamo che però il pubblico non può gestire la no sappiamo vedere che cosa è successo poi nel passato quindi si parla in realtà di tanto co-marketing per quanto riguarda il pubblico quello che può fare oggi il pubblico quindi un APT quello che può fare il comune anche con queste modalità chiaramente Ieg è un soggetto privato e può agire in modo diverso forse magari i soldi potrebbero anche numericamente magari arrivare proprio da lì sappiamo bene anche le parole di Ermetti nei giorni scorsi comunque è una trattativa in corso questa mattina ne parla il resto del Carlino in realtà la notizia che magari è un po' meno significativa perché il desiderio che il Fellini De Colli credo che ce l'abbia tutto il territorio insomma che effettivamente diventi uno scalo appetibile soprattutto per chi arriva in vacanze quindi portare più turisti che altrimenti rimarrà sempre un altissima percentuale di chi arriva e speriamo ne arrivino sempre di più anche in aereo la notizia di ieri è che in Pompamagna Ryanair ha annunciato che finalmente in Pompamagna ci sarà la sua winter season eh sì però poi c'è un volo solo ma no spiegati bene uno scalo solo una destinazione sola uno scalo solo cosa vuol dire lo scalo solo è quello di Cagliari ho capito il collegamento i voli sono quattro se non ti esprimi nel modo giusto la gente non capisce mi aspettavo qualcosa in più ma no non c'hanno gli aerei ma lo so il Boeing è in ritardo con le consegne va bene vediamo la notizia che magari qualcuno ci vuole andare in Sardegna come in ogni caso Ryanair anche alla luce di un accordo sottoscritto quasi un anno fa con l'aeroporto di Rimini conferma per la prima volta da Rimini nella storia dell'aeroporto di Rimini un'operatività anche invernale quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno hai ragione non c'erano mai stati i voli Ryanair in inverno da Rimini adesso ci sono ci sono i quattro voli per Cagliari bisognerà capire se sono due andata e ritorno o se sono quattro quindi quattro voli in andata e altrettanti in ritorno perché dal comunicato non si capisce bene si parla di quattro voli genericamente si parla di verso dice quindi vorrebbe pensare che anche se al momento i collegamenti che erano segnati nell'app di Ryanair erano due in ogni caso Rimini sarà collegata con Cagliari per tutto l'inverno e poi da marzo probabilmente arrivati i nuovi Boeing in consegna alla compagnia irlandese scatteranno in anticipo rispetto a un'estate che per l'aeroporto parte da aprile quindi il mese di marzo è ancora pienamente all'interno della stagione invernale partiranno anche dei potenziamenti delle frequenze per Varsavia e per Budapest è previsto anche un collegamento con Londra ma insomma un paio di voli almeno questo stando a quello che è attualmente caricato quindi anche Ryanair ci ha confermato che effettivamente da marzo saranno implementate questa volta sarà implementata da altre collegamenti intanto se volete andare in Sardegna Cagliari è molto bella aspetta perché finiamo questa notizia che riguarda Cagliari non fare questo brusio di sottofondo dai no continua a fare il brusio di sottofondo no parla in radio secondo te la mattina in diretta persone che in teoria dovrebbero essere seri a raccontare delle cose e tu fai questo brusio di sottofondo chi dovrebbe essere seri a raccontare delle cose tipico a scuola quando il prof ti chiama allora hai detto mi giustifico allora no solo per chiudere se volete andare in Sardegna o se avete qualche amico sardo che vuole venire a Rimini Ryanair ha lanciato sul suo sito una promozione proprio perché quest'anno ci sono i 25 anni di inizio attività dal Fellini di Ryanair quindi per celebrare questa data non solo ci sono questi voli settimanali ma anche la possibilità di viaggiare con qualche sconto proprio per questo periodo che va da novembre a marzo andate a vedere sul sito se effettivamente sono offerte applicibili sulla app di Ryanair risultano prenotabili due voli settimanali che sono i giorni che sono il venerdì e la domenica a partire da novembre dal 3 di novembre ogni venerdì e ogni domenica dal Fellini si parte con direzione Cagliari e gli stessi giorni ah sempre gli stessi giorni non è che torni un altro giorno perché l'aereo che arriva poi riparte venerdì e domenica potrebbe essere anche un bel fine settimana secondo me non so qual è l'orario di partenza perché bisogna vedere molto anche quello perché quello incide ah te lo dico subito guarda oh dai facciamo una prova scusa ma non puoi farlo sul pc che così magari no no l'app ce l'ho sul telefono non ce l'ho sul pc però se vuoi posso guardare se sul sito di Ryanair pensavo fossi sul sito intanto io vado a salutare qualcuno che è riuscito a raggiungerci anche sui social un po' peregrinando questa mattina sul web salutiamo Roberto che ci manda il buongiorno e anche Irene che ci fa arrivare il suo di buongiorno grazie a tutti voi per seguirci adesso proviamo a fare questo esperimento dai proviamo a fare questo esperimento io vorrei andare a Cagliari beh quello c'è non è che vuoi andare adesso ci pensi anche vorrei andare a Cagliari vorrei andare a Cagliari io vado sulla pagina fine novembre che secondo me chiediamo quindi alla nostra paziente regia di andare a così lo facciamo insieme vediamo quanto costa vediamo quanto costa allora io ti posso dire che Rimini-Cagliari in questo momento possiamo guardare questa è la schermata online di Ryanair andiamo per chi ci segue in tv da novembre il primo volo è il 3 quindi possiamo segnare il 3 novembre come data di partenza e poi mettiamo la domenica di ritorno come data di ritorno andiamo io e te andiamo due adulti senza bagagli che costa troppo tanto due giorni benissimo due giorni rapidi tanto diamo il buongiorno a Stefano mentre stiamo raccontando anche per chi è in radio certo perché in radio stiamo tentando di acquistare per finta ovviamente ce l'hai sulla carta i soldi per pagare assolutamente no non è neanche collegata allora vediamo i prezzi assolutamente ragionevoli perché l'andata si parte alle 14.10 da Rimini si arriva alle 15.30 a Cagliari il costo in questo caso è di 41.02 a persona la tariffa basic ovviamente che va benissimo per due giorni poi torniamo quindi scegliere Andrea ci piace questi 41.00 ci piacciono il ritorno 27.31 benissimo partenza alle 17.05 arrivo a Rimini alle 18.25 cioè vai seleziona anche questo pomeriggio passi già secondo me novembre si sta ancora benissimo sulla spiaggia qui nei prossimità insomma della bellissima Sardegna e il totale con la tariffa besi che è di 136.66 euro in due sì certo siamo in due che partiamo esatto vai Andrea vai no basta numero della carta di credito no basta niente niente dove vuoi andare a novembre a Cagliari ma secondo me si sta benissimo a novembre a Cagliari infatti guardava con un certo interesse questo esperimento che abbiamo fatto piace a Matteo è riuscito direi che 27 euro ritorno buono allora facciamo solo il ritorno cioè si spende molto di più ad andare in traghetto ti incammini a piedi e torni buongiorno a tutti anche dal nostro Roberto Nanni che salutiamo buongiorno a tutti io volevo però dire che ieri Ryanair non è che pensa solo a Rimini ieri Ryanair ha presentato anche l'operativo invernale in questo caso non è una novità perché c'era già l'inverno scorso perché Ryanair è tornata a volare dall'aeroporto Ridolfi di Forlì che va benissimo anche un altro aeroporto vicino l'inverno del 2022 quindi a cavallo 2022-2023 con due destinazioni già all'epoca che sono Palermo e Catovice o Catovize come si dice voi che sapete le lingue e in questo caso diciamo che i voli sono 10 cioè 6 per Palermo anche in questo caso dobbiamo capire se andate e ritorno o però direi che guardando gli operativi attualmente quando dicono 10 voli vuol dire 5 in andate e 5 in ritorno e 4 per la Polonia vogliamo andare anche a Palermo? no perché sai Sardegna si potrebbe andare in Sicilia a vedere che cosa ci conviene di più Andrea vuoi andare anche lì sapete stamattina è venerdì facciamo dei tentativi perché le persone poi che ci stanno ascoltando dicono vi interessa quello che stiamo dicendo quasi quasi perché si potrebbe andare anche a fare un piccolo giro autunnale a mio avviso c'è sempre grande interesse io avrei interesse a sapere non che potrei farlo da sola comunque diciamo che in questo momento Forlì Bartirimini Forlì Bartirimini 10 a 4 è proprio così no perché bisogna anche sottolineare il fatto che in ogni caso Ryanair da Forlì almeno questo è accaduto l'anno scorso ha mantenuto le medesime due destinazioni sia in inverno che d'estate mentre Rimini nel periodo estivo poi potrebbero esserci dei potenziamenti delle novità dirotte ne ha 9 di Ryanair tanto che Ryanair punta un obiettivo 2024 su Rimini di 200.000 passeggeri l'obiettivo su cui punta da Forlì è di 100.000 passeggeri quindi su Rimini c'è una possibilità di avere il doppio dei dei voli dei passeggeri che volano con Ryanair ritorniamo Matteo così lo facciamo anche in grafica sul nostro aspetta fammi fare intanto cerca Forlì tutto subito riesce al primo colpo scrivo Forlì abbiamo deciso di fare questo siccome ci sono due rotte Rimini Cagliari quindi da Rimini si può andare in Sardegna ma c'è la possibilità da Forlì di andare in un'altra meravigliosa isola che è la Sicilia quindi su Palermo proviamo a vedere che cosa ci conviene di più più o meno sempre lo stesso periodo c'è Matteo che ci sta dando delle indicazioni che però non so se possono essere utili per te non ti prende Forlì no io sto digitando Forlì come torna indietro torna indietro vedi che c'è te lo mostra devo cliccare qui vedi che serve la regia ma quando è attenta è perché vuole andare in questi posti certo e capire cosa conviene di più tanto sono trampe bellissime queste isole su Palermo abbiamo più scelte in questo caso ci fai vedere Matteo la grafica perché la partenza Forlì destinazione Palermo già da novembre prevede tre voli alla settimana che sono il lunedì il mercoledì e il venerdì allora io farei venerdì lunedì Andrea direi quindi partenza venerdì tre ritorno qui ci stiamo un giorno in più lunedì sei sempre in due perché siamo sempre io e te certo adesso che manca cerchiamo vediamo cosa ci offre vediamo un po' che cosa ci propone Ryanair stiamo cercando di fare caspita 19,35 euro con partenza che ora da Forlì 16,25 da Forlì arrivo a Palermo alle 17,45 selezioniamo e il ritorno il ritorno mi costa un po' il ritorno costa 80 euro e beh spesso capita quando costa molto uno dei due e quindi qua abbiamo un viaggio basic da 200 euro quindi spendiamo un pochino di più per andare insieme a Palermo vabbè ma potremmo fare un fine settimana tra l'altro a Cagliari e un fine settimana a Palermo la peculiarità è che questi voli sono portati avanti da Malta Air che deve essere una controllata no no ma non è controllata vanno insieme operano per altre questa è tv di servizio radio di servizio questa è tv e radio di servizio se volete che noi si provi a testare se effettivamente i voli sono in orario si va bene noi potremmo anche fare un test e quindi farci pagare dall'azienda questi due passaggi per capire se funziona tutto bene a posto direi che possiamo andare avanti e io ci provo poi vuoi mettere fare un bel documentario che proponiamo a tempo reale del nostro viaggetto è una puntata in diretta dal check in dal check in vedere quanto tempo se sono in orario se sono in ritardo se tutto funziona se il servizio è corretto come sono gli aeroporti quindi come ti puoi intrattenere quando sei lì in attesa noi assoluto facciamo solo per questo esatto certo poi dopo visto che ci siamo andiamo anche perché una volta che sei salito sull'aereo poi cosa fai scendi bene procediamo tour de france tour de france 2024 non lo sa ancora nessuno diamo una notizia in anteprima partirà dall'italia da firenze ma la cosa che ci interessa di più è che poi arriverà anche a rimini per la prima tappa cioè solo noi abbiamo queste notizie scoop diciamo che il ttg non poteva non presentare questo tema questo appuntamento è importantissimo perché come giustamente dicevi e ricordavi tu qualche tempo fa parliamo dell'evento sportivo più seguito al mondo il tour de france è così cioè nel senso che in tutto il mondo è l'evento che si guarda sportivo chiaramente che viene più visto quindi effettivamente anche a livello di promozione perché poi spesso sappiamo bene che questi appuntamenti vengono non solo promossi anche i territori quando vengono spiegati ma il ciclismo è particolare da questo punto di vista perché le telecamere ti seguono lungo un percorso che spesso ha delle panoramiche visioni dall'alto droni che permettono di vederlo bene quel territorio che viene attraversato e conoscendo il nostro territorio sono certa forse lo faranno anche a Firenze che rifaranno tutti gli asfalti no non solo ma che faranno tanti appuntamenti collaterali proprio in quei giorni per godersi il tour de france quindi non so in occasione della tappa a mio avviso qualche evento qualche appuntamento esatto ci sarà di sicuro e quindi bene noi abbiamo mandato il nostro esperto di ciclismo a seguire il tour de france no Andrea non dire cose no nel senso che li riconosce a vista tutti i ciclisti poi il gruppo è grande sono più di 100 ma lui li conosce tutti è incredibile anzi dopo se volete possiamo fare un test mettiamo una foto tanto è di là è già qua è già lì che ripassa il nostro Stefano Rossini è andato proprio al TTG per farsi raccontare un po' meglio questo passaggio italiano del tour de france e quindi nel servizio sentiremo oltre alla voce di Stefano anche quella dell'assessore regionale al turismo Andrea Corsini e del presidente dell'APT Davide Cassani è stato un lavoro di squadra sinergico quello che ha permesso all'Emilia Romagna alla Toscana e al Piemonte di portare la partenza del tour de france uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo proprio in Italia un risultato che avrà grandi ricadute su tutto il comparto turistico un'occasione io dico molto importante dal punto di vista dell'indotto economico perché parliamo di 29 milioni di euro di indotto abbiamo fatto appunto fare una stima da una società specializzata di 240 mila presenze quindi insomma parliamo davvero di un indotto diretto particolarmente impattante in senso positivo quindi questa è davvero un'occasione straordinaria che dovremmo come dire sfruttare anche dal punto di vista degli eventi collaterali perché è importante che anche prima del tour i comuni le destinazioni organizzino eventi convegni dibattiti feste colorare diciamo le città di giallo perché questo crea comunque un'atmosfera e crea anche diciamo un sistema ospitale in grado di attirare appassionati di ciclismo ma non solo è un evento sportivo ma dove si percorrono strade dove si entra nel territorio dove c'è la possibilità attraverso la televisione di far vedere tutto quello che circonda un gruppo di corridori ed è per questo che abbiamo scelto il Tour de France perché è un evento tra i più seguiti al mondo e ci dà la possibilità di farci vedere nel mondo intero e quindi per la prima volta nella storia avremo la possibilità di ospitare in Italia ed in Emilia Romagna il Tour de France la presentazione dell'evento è stata anche l'occasione per fare il punto su una stagione turistica non facile è stata una stagione appunto anomala perché le previsioni erano di un certo tipo poi in maggio è cambiato il mondo con l'alluvione la crisi economica il rialzo dei prezzi insomma tutte le cose che fanno parte di una congiuntura economica non particolarmente brillante ecco nonostante questo noi abbiamo compiuto credo un mezzo miracolo perché chiudere comunque l'estate con una leggera flessione degli italiani e un incremento importante degli stranieri sulla riviera lo considero un risultato davvero inaspettato perché in maggio in giugno come dire tutti si aspettavano il tracolo il tracolo non c'è stato abbiamo tenuto grazie soprattutto agli stranieri gli stranieri ci hanno aiutato in questa stagione che arrivano direttamente dal TTG un'altra giornata in fiera per il TTG sicuramente insomma vedendo anche il traffico mi immaginiamo che ci sia davvero tanta gente e questa è una buona una buona cosa leggevo questa mattina Andrea sulle pagine del Corriere so che è un tema che ormai pochi trattano ed è giustamente pochi trattano il Corriere però decide di dedicarci una pagina all'influenza all'influenza perché giustamente pochi trattano no ma al covid in modo particolare l'influenza è giusto che le persone non è ancora arrivata l'influenza i soggetti deboli i soggetti le persone anziane è giusto che si vaccinino perché l'influenza può avere conseguenze per certe persone assolutamente da lunedì da lunedì c'è la possibilità di farsi il vaccino nei soliti canali le prenotazioni sono già partite dall'11 di ottobre insieme si può fare anche il vaccino anti-covid che è stato rivisto per tutte le varianti che sono circolate insomma negli ultimi tempi diciamo che nonostante appunto l'influenza non sia ancora arrivata questa non può evitare forse il tempo però in realtà sta circolando abbastanza il covid per cui ci sono anche diverse persone che sono già nonostante appunto il bel tempo il sole il caldo ha letto per combattere i sintomi tipici che poi sono anche quelli dell'influenza che proprio sono quelli del covid raffreddore tosse mal di gore insomma anche in forme abbastanza impegnative questa mattina viene intervistata sulle pagine del Corriere Raffaella Angelini che è responsabile per l'asle Romagna dell'ufficio igiene pubblica che spiega come non si abbia misura dei casi di covid perché oggi non c'è giustamente non c'è più una necessità di doversi segnalare soprattutto sappiamo bene che cosa abbiamo vissuto per cui le persone magari per correttezza nei confronti degli altri ma anche semplicemente dei propri familiari se non stanno bene si fanno un tampone vedono se effettivamente è covid o meno e quindi poi anche le misure che prendono nello stare in casa magari a contatto con persone anziane fragili bambini ma anche semplicemente i propri parenti ci stanno un pochino più attenti questo forse credo che sia l'indicazione migliore evitare di uscire ma semplicemente perché sappiamo che il covid che oggi giustamente deve essere considerato come un'influenza speriamo che sia davvero così circola più rapidamente circola anche con una certa aggressività nel senso che ci si attacca il covid più facilmente e quindi forse è bene avere questa ha una maggiore trasmissibilità e va più veloce infatti perché viene chiesto proprio basica questa domanda ve ne leggo solo uno poi è un'intervista molto interessante per cui andatela a recuperare chi ha la febbre potrebbe avere contratti il covid lei dice è molto probabile il virus sta circolando ampiamente ma non abbiamo più la misura esatta dei casi durante la pandemia le persone venivano a farsi il tampone insomma sappiamo bene caduti i vincoli deve mantenersi vivo il senso di responsabilità individuale ci si chiede come adottando le opportune cautele per tutelare le fasce più fragili della popolazione anche se non siamo più tenuti a farlo da una legge dello Stato quindi ad esempio magari non si sta benissimo se vai in un ospedale una mascherina forse anche se non è obbligatoria in tanti luoghi anche tanti sanitari magari anche correttamente non la utilizzano più in alcuni ambulatori e quant'altro ma se non si sta bene forse qualche piccola misura per tutelare gli altri sarebbe bene prendersela sicuramente negli ospedali nelle RSA è quello che dico penso che ci siano ancora anche perché solitamente quando si gira anche nei luoghi pubblici specie quelli appunto legati all'ambito sanitario ancora sono affisse le obbligo di mascherine non so se sono rimaste lì da tempi addietro le lasciamo così se qualcuno gli viene in mente guardandolo però in effetti anche all'interno delle strutture ospedaliere adesso sono poche le zone in cui si vedono persone visitatori pazienti con la mascherina ma guarda secondo me se si sta bene è vero che c'è anche il covid asintomatico però se dobbiamo allora bisognerebbe starci sempre in attenzione quindi diciamo io credo che sia utile quando si hanno dei sintomi forse era utile anche prima non era una pratica che avevamo quella appunto di essere un po' più attenti di stare lontani dalle persone se esci se vai in un luogo dove ci sono persone fragili di metterti una mascherina in qualche modo da qualche parte qualche mascherina in tutte le nostre case è rimasta ogni tanto io ne trovo qualcuna c'è una idea se sono ancora utilizzabili no ma sì sì ma tu però no ma sì certo anche nuove che trovi nelle borse o comunque nei giubbotti che hai usato negli anni precedenti insomma sappiamo bene che prima di dimenticarci forse non ce lo dimenticheremo mai di questo triste periodo che abbiamo vissuto ce ne vorrà di tempo c'è da dire che abbiamo vissuto anche alcuni anni in cui l'influenza non c'è stata proprio perché si portavano avanti una serie di atteggiamenti che rendevano più complicato appunto il trasmettersi del virus influenzale le mascherine ma non solo anche l'attenzione all'igienizzazione delle mani al non passarsele sul volto e quant'altro sicuramente per alcuni anni il 2021 il 2022 hanno aiutato a non lasciare spazio anche al normale virus influenzale tanto che poi di fatto l'influenza è tornata a farsi sentire lo scorso anno è così te lo ricordi Giulio Lolli? sì te lo ricordi Giulio Lolli? ecco questa mattina noi una notizia che non abbiamo seguito magari la andremo a recuperare ma grazie ad entrambi i quotidiani vi possiamo dire che il pirata è stato pirata fra virgolette perché insomma era stato un po' definito in questa modalità è stato assolto praticamente la Cassazione è stato assolto da uno dei esatto diciamo dai reati più gravi perché Lolli non è stato un terrorista diciamo che questo era anche l'imputazione più grave che pesava su di lui è stato respinto il ricorso della procura confermati cinque anni invece per traffico di armi l'ex patron di Rimini io te leggo semplicemente un po' di titoli potrebbe scontare il resto della pena in comunità e quindi rimane questa condanna lui risulta ancora testimone contro i crimini di guerra però è diventato quindi un super testimone però è caduta forse l'imputazione che effettivamente era la più grave quella che lui stesso invece fosse e avesse avuto degli atteggiamenti che riconducibili proprio ad un atto terroristico e quindi insomma lui ha sempre detto che in realtà aveva cercato di fare il contrario cioè di combatterli i terroristi ora la vicenda è quanto mai oscura e forse non si chiarirà mai del tutto però vi diciamo un po' la fine almeno per quello che riguarda questa imputazione così grave Diamo il buongiorno a Simona a Gian Maria e a Paolo che ci dice puntata interessante con l'approfondimento Ryanair bravi interessa interessa a me interesserebbe cioè nel senso che a me se mi fanno viaggiare anche solo con la mente facciamo questa promessa quando vengono aggiunte delle rotte interessanti da Forlì o da Rimini noi andremo subito a tastare con mano il costo di queste tratte ovviamente noi vediamo quello basic cioè con lo zainetto con lo zainetto ma noi anche perché facciamo proprio toccate fuga due o tre giorni vai lì ti godi il cibo ti godi il sole il mare io metto addosso già due paia di pantaloni due o tre maglie soffri un po' il caldo però ho già tutto e non ho bisogno di portarmi alto poi secondo me per le rotte anche la biancheria se le metti una sopra l'altra quelle sopra non si sporcano questo forse qualche dubbio ma diciamo che un paio di slip non tengono tanto spazio ricordo una puntata di Friends dove c'era gioi che aveva messo tutti i vestiti però guarda secondo me tra l'altro vi abbiamo provato a portare almeno con la fantasia a Cagliari a Palermo nel mese di novembre potrebbe essere che a novembre ci vai davvero ancora con degli indumenti molto leggeri anche se qua dalle nostre parti si dice che tra domani dopo domani il tempo andrà a cambiare ma noi vorremmo anche portarvi da un'altra parte un pochino più vicino a Ravenna se non sbaglio proviamo ad andare a Ravenna proviamo perché i dieci minuti che ci erano stati richiesti dovrebbero essere passati e quindi vorremmo andare a farci una bella gita d'arte e cultura nel Ravennate proprio così intanto diamo il buongiorno anche a Massimo Massimo Angelini che insomma ci saluta e noi stiamo felici di anche di poter avere il suo buongiorno perché andiamo a Ravenna perché domani oggi ci sarà un vernissage di apertura non suona bene è vernissage mi piacciono tanti però diciamo che da domani ci sarà la possibilità di vedere questa bella mostra lui è un artista splendido sarà ospitata dal Mar di Ravenna e noi abbiamo in collegamento Roberto Cantagalli che proprio del Mar è il direttore Roberto buongiorno 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 a tutti Roberto volevo mantenere un attimo proprio l'attesa ma chi ci sarà al Mar perché io almeno credo che sia uno dei miei artisti preferiti devo dire la verità poi conoscendone anche un po' la storia è veramente affascinante Roberto possiamo chiedere a lei proprio di farci entrare in qualche modo al Mar chi ci sarà chi racconterete e in che modo il Mar celebrerà un artista veramente importante un artista italiano tra i più significativi del secondo novecento Alberto Burri che ha avuto un rapporto un legame privilegiato con Ravenna quindi la mostra che inaugurerà questa sera le 18 ripercorre e cerca di esplorare questo rapporto il rapporto tra Burri e Ravenna che è stato molto significativo perché ha fortemente condizionato l'ultima produzione artistica del grande maestro a partire dagli anni 90 la mostra ha un titolo significativo Burri Ravenna Oro proprio perché il tema conduttore degli ultimi cicli della produzione artistica di Burri vede l'oro come protagonista in contrapposizione al nero che è uno dei colori classici di Burri Burri è conosciuto per i suoi neri che vengono esplorati in tutte le declinazioni cromatiche per i rossi per i bianchi ma anche per l'oro l'oro diventa protagonista come dicevo negli ultimi cicli quindi opere di una straordinaria bellezza in cui la ricerca estetica si accompagna anche ad un'organizzazione spaziale delle opere veramente importante ma è una retrospettiva che parte però dagli anni 50 quindi anche per far vedere come il tema dell'oro e il significato anche simbolico dell'oro nell'opera di Burri abbia un'evoluzione appunto dai sacchi degli anni 50 fino alle opere quasi classiche degli anni 90 tra l'altro direttore c'è anche l'aspetto che Burri ci ha davvero portato a questa diciamo sviluppo dell'arte anche in modo molto materico molto realista utilizzando anche dei materiali molto particolari nelle sue opere forse lo diceva lei l'ultima parte della sua vita entra l'oro l'oro che poi è simbolicamente anche forte rispetto anche ad altri materiali che aveva utilizzato nel periodo precedente del suo cammino artistico c'è anche un significato legato a questo? Allora sostanzialmente la ricerca della materia sulla materia che Burri conduce proprio a partire dai primi anni 50 è il tratto distintivo dell'artista sostanzialmente la materia non è descritta nella sua opera ma è parte della realtà è parte dell'opera cioè i quadri di Burri non descrivono la realtà ma sono una parte della realtà stessa e questa materia che è così dominante è proprio simboleggia questa efficacia questa concretezza dagli anni 50 inizia a lavorare sui sacchi che vengono inseriti nei quadri gestando anche scandalo in quel momento con delle lacerazioni con delle cuciture per poi arrivare ai ferri alle plastiche che vengono insomma anche in qualche modo sono oggetto di combustione e lui lavora anche su questi aspetti e poi appunto come dicevo l'oro che viene però applicato anche qui in modo materico quindi con delle lamine che in qualche modo simulano le tessere del mosaico proprio per questo che Burri fu fortemente influenzato dalla sua presenza a Ravenna a partire dalla fine degli anni 80 Burri venne coinvolto nel progetto Ferruzzi per l'arte subì il fascino delle basiliche bizantine e iniziò a creare opere in cui viene in qualche modo ripresa la trama dei mosaici quindi la matericità anche in questo caso anche nella fase classica diciamo così della sua produzione artistica è presente anche se in modo diverso direttore magari chi ci sta ascoltando non tutti hanno questa vicinanza all'artista all'opera d'arte in secco se lei dovesse consigliare anche dandoci un motivo di non perdersi questo appuntamento che tra l'altro durerà per tanti mesi al mare di Ravenna cosa si sentirebbe di consigliare diciamo anche a chi ci sta ascoltando che magari si è fermato un minuto ad ascoltarci in radio ci sta guardando in tv e dice perché no potrei magari andarci anch'io io penso che diciamo le opere di Buris abbiano un'efficacia assoluta quindi non è necessario essere degli intenditori d'arte contemporanea per poterli apprezzare è indicativo il fatto che molte volte i bambini che quindi ovviamente non sono condizionati da valutazioni intellettuali culturali eccetera rimangono affascinati perché soprattutto le opere le ultime opere di Buri presentano come dicevo prima un senso estetico veramente sviluppato fino alle sue estreme conseguenze un senso estetico incredibile una organizzazione dello spazio che produce nel visitatore nell'osservatore una sensazione non molto dissimile da quella che si ha guardando le opere classiche del Rinascimento da Michelangelo Leonardo eccetera quindi è veramente forse l'occasione per capire quanto possa essere efficace l'arte contemporanea e quanto in fondo l'arte produca sempre gli stessi effetti nelle persone in sostanza ci emoziona stimola il senso del bello ci porta ad una dimensione più alta che bella questa descrizione e questo invito direttore quindi diceva questa sera si parte alle 18 poi si andrà avanti fino a quando ci saranno anche degli appuntamenti in questi mesi anche per cercare poi di conoscere meglio l'artista come avete pensato la mostra la mostra terminerà il 14 gennaio abbiamo un nutrito programma di iniziative molto significativo sarà la presenza una conferenza che si terrà il 10 novembre qui al museo a partire dalle 16 in cui il curatore della mostra il critico d'arte il docente Bruno Corà che è tra l'altro il presidente della fondazione Burri spiegherà appunto l'evoluzione diciamo gli elementi della narrazione della mostra e il rapporto tra Burri e Ravenna in un dialogo con Claudio Spadoni che è stato il primo curatore di una mostra nell'88 di Burri poi tanti altri appuntamenti a partire dal 14 in occasione della Notte Oro quindi il giorno successione l'inaugurazione il museo rimane aperto fino alle 2 di notte quindi la mostra è possibile visitare la mostra anche nelle ore notturne che bello e poi una grande festa perché è una Notte Oro legata ai nostri grandi monumenti una festa che celebra la cultura e il rapporto tra la cultura e la comunità quindi i jardini del museo saranno coinvolti in un concerto in un live che poi si svilupperà con un DJ set insomma fino a tardanotte e la mostra sarà visitabile fino alle 24 bellissimo direi che le opportunità ci sono tutte tra l'altro insomma per chi come noi a Rimini e quest'estate ha avuto l'occasione di andare al meeting è già stato un bellissimo approfondimento proprio sull'opera artistica e non solo di Alberto Burri per cui se avete avuto questa occasione adesso c'è questa grande opportunità che non potete perdere direttore grazie mille di essere stato con noi facciamo una promessa di venirla a vedere la mostra e così poter anche proporre alcune immagini alcune opere che avete al mare anche ai nostri telespettatori e poi raccontarle come ha fatto lei con la voce anche a chi ci ascolta solo buona giornata e buon lavoro anche a voi grazie ringraziamo Roberto Cantagalli direttore del Mar di Ravenna ci siamo spostati un po' ma ne vale la pena quando ci sono queste belle opportunità ci far piacere girare la nostra Romagna ma perché mi piace tanto questa artista perché è quell'arte contemporanea che mi come dice qualcuno mi arriva che io secondo me è assurda questo tipo di verbo però non è transeunte non so però mi piace molto è qualche cosa che mi affascina basta non dico altro è molto personale perché sai con l'arte contemporanea io poi non ho altri strumenti per guarda io di arte capisco poco pochissimo quasi come te di calcio è più o meno allora poco effettivamente molto poco la Rimini si conferma invece nella top 10 delle mense scolastiche italiane in base alla classifica redatta da una realtà di settore è ottava nel rating dei menu scolastici l'indagine appunto di Food Insider che preverà anche a casa tua fare un'analisi meglio di no e il report è stato presentato ieri e conferma i trend positivi di Rimini negli ultimi anni con una particolare menzione per quello che riguarda i piatti legati alla filiera ittica locale alla cultura del territorio in particolare al pesce dell'Adriatico come il pesce azzurro e le vongole sul nostro sito invece trovate tutti gli appuntamenti per la festa del patrono di cui parlava Andrea ce ne sono di tanti tipi ci sono quelli più festosi più gaudiosi la tombola la festa del borgo Santa Andrea poi chiaramente ci sono anche quelli di carattere religioso ne ricordiamo uno in particolare che è la messa la santa messa solenne in occasione proprio del patrono che sarà celebrata dal vescovo Nicolò Anselmi domani pomeriggio alle 17.30 lo facciamo perché per tutti coloro che non riescono ad essere presenti fisicamente noi manderemo in diretta la celebrazione quindi proporremo la diretta della celebrazione quindi dalle 17.30 sia su Icaro TV che su Radio Icaro al termine della celebrazione proprio come desiderio del vescovo Nicolò ci sarà una breve processione per la pace sappiamo bene quello che ci sta sconvolgendo in questi giorni e che purtroppo sta sconvolgendo le vite di tante persone nei luoghi della Terra Santa ci sarà questa processione che partirà proprio dalla Basilica Cattedrale diciamo attorno alle 19 una fiaccolata perché già sarà sceso il buio che attraverserà i luoghi del centro storico quindi Piazza Tre Martiri per arrivare poi a Piazza Cavour un appuntamento che credo sia bello condividere insieme tra l'altro è proprio notizia di queste ore che attraverso la conferenza episcopale italiana anche la nostra diocesi di Rimini ha raccolto l'invito di padre Pier Battista Pizzaballa che chiede un giorno di digiuno e di preghiera proprio per chiedere la pace che sarà il 17 ottobre questo è l'invito che è arrivato tramite i vescovi quindi la chiesa italiana ma che poi viene diffuso in tutto il mondo e che è proprio stato l'invito del cardinale recente cardinale che è anche patriarca ricordiamolo di Gerusalemme dei latini perché comunque la preghiera per i fratelli e le sorelle di quel luogo di qualunque religione essi siano è fondamentale in queste ore quindi l'invito è per il 17 ottobre invece hai visto che a Riccione si torna a parlare di politica si torna a parlare di politica la vera Riccione ma non l'hai letto ma tu sei quello esperto ma in realtà io non sono esperto ne sa molto di più chi firma quell'articolo così come quelli di ieri parliamo di Andrea Oliva tra l'altro in merito all'articolo di ieri ricordi avevamo detto in quel caso si parlava in modo particolare della coalizione di centro-sinistra come si sarebbe comportata in vista di eventuali elezioni noi siamo ancora in attesa di capire se il consiglio di stato confermerà o meno l'annullamento delle elezioni sancito dal TAR delle elezioni nel comune di Riccione e in coda a quell'articolo si parlava di un Fabio Galli pronto intenzionato a scendere in campo nell'eventualità di una mancata ricandidatura di Daniela Angelini in realtà lui con una nota sui social ha smentito assolutamente tutto dicendo io non ho alcuna intenzione io sono uomo di partito l'unica volta che ho avuto intenzione di candidarmi è stata in quel 2009 e da allora non mi è mai più balzata per la testa l'idea di candidarmi al sindaco di Riccione sono a servizio del partito non sto assolutamente cercando sostegno o candidature di alcun tipo hai fatto bene a dirlo visto che ieri appunto citando l'articolo lo avevamo accennato a questa ipotesi oggi invece si parla di centro-destra si parla di modo particolare di giochi di equilibri interni alla coalizione perché sembra che Fratelli d'Italia sia intenzionata questa volta a far valere il ruolo che riveste a livello nazionale e che non rivestiva nel giugno 2022 quando si andò in precedenza alle UNE tra l'altro Fratelli d'Italia raccolse intorno al 5% 4-5% e invece in questo caso il nome da spendere vorrebbe spenderlo appunto Fratelli d'Italia qua però si apre anche una diatriba interna stando a quanto riporta il resto del Carlino perché sappiamo che i vertici del partito hanno deciso di andare un po' a rinnovare tutte le realtà locali tutti i vari coordinamenti locali territoriali quindi ci sarà un congresso e quant'altro però ci sono due anime all'interno di Fratelli d'Italia sul territorio una che fa capo all'onorevole Colombo una che fa capo all'onorevole Spinelli così ci dicono entrambe appunto una deputata l'altra senatrice di Fratelli d'Italia e quindi diciamo che entrambe queste aree che vorrebbero in qualche modo esprimere il nome del candidato noi sappiamo che Colombo è forse più vicina alla realtà riccionese in quanto consigliera comunale ancora non aveva fatto in tempo a dare l'addio allo scranno del consiglio quando poi è arrivata la sentenza del TAR tra l'altro tra i nomi papabili citati dall'arresto del Carlino perché noi a questo facciamo riferimento non a notizie di prima mano avute da noi c'è anche quella di Giulio Mignani che è stato presidente del consiglio comunale nella prima amministrazione ma era però in capo a Forza Italia il suo passaggio a Fratelli d'Italia è piuttosto recente tanto che anche nel 2022 era nelle liste di Forza Italia è marito della Colombo ed è uno dei nomi sui quali che vengono citati come spendibili per un'eventuale forse dopo arriverà la smentità anche su questo non lo sappiamo noi vi leggiamo perché ovvio che se ci si mettono di mezzo i partiti le civiche forse possono hanno meno margine di manovra specie se ci si mettono i partiti a livello nazionale però insomma numeri alla mano gli ultimi numeri che Riccione ha snocciolato in termini elettorali dicono che le civiche in questo momento sono molto più forti tra virgolette dei partiti ed è un po' una realtà all'interno del centrodestra storica nella riccionese perché già insomma anche quando vinse Renata Tosi il ruolo delle civiche era ben più forte rispetto al ruolo dei partiti quindi bisognerà capire che giochi ci saranno in caso di eventuali elezioni e sappiamo anche che quando ci sono tutti questi tira e molla purtroppo per loro il centrodestra ci è abituato spesso anche in altri comuni a farli alla fine si va lunghi e le cose non vanno nel verso giusto non sono come dovrebbero essere diciamo che tu hai citato l'onorevole Spinelli chi è sostenuto ed è quindi pienamente riccionese perché chiaramente la Spinelli immagino che conosca molto bene le dinamiche territoriali del partito che rappresenta si parla dell'attuale coordinatore che è Stefano Paolini e quindi anche che appunto avrebbe l'endorsement della Spinelli nell'area politica del partito primo dei non eletti nel liste di Fratelli d'Italia nel 2022 sarebbe subentrato alla Colombo se il Consiglio Comunale fosse rimasto in carica perché appunto la Colombo era pronta a dare le proprie dimissioni in quanto ricopre il ruolo di deputata allora diciamo che tutto è anche legato a quello che succederà a livello provinciale ma anche lì si prospetta almeno stando a questo articolo appunto del collega Oliva la possibilità di una lunga battaglia che però dovrebbe portare al confronto a entro la fine dell'anno e quindi se a livello provinciale magari le cose vanno a delinearsi forse anche di questo potrebbe godere una scelta nel caso si andasse a nuove elezioni rapida anche del candidato ricionese sempre che poi sarà espressione di Fratelli d'Italia in realtà qui si parla anche di un candidato esterno forse un candidato quindi che possa andare bene sia a Fratelli d'Italia che alla Lega e perché no anche alle stesse civiche però diciamo che il percorso è solo all'inizio anche perché ancora non si sa se si andrà a nuove elezioni quindi benissimo le grandi manovre ma forse rischiano di essere fatte un po' troppo presto rapidamente in tema politico due rapidi passaggi per alcuni personaggi di rilievo di spicco a livello nazionale che sono prossimi ad arrivare nel riminese perché lunedì parto dal ministro arriverà il ministro dell'interno Piantedosi annunciato come uno dei relatori al convegno della polizia in programma all'hotel ambasciatori di Rimini mentre il partito democratico si prepara la festa DEMS che ormai credo ha la quarta o quinta edizione nella riminese e anche in questo caso arriveranno in alcuni luoghi del centro storico tra cui il Fulgor alcuni leader nazionali da Orlando che è tra i promotori di questa festa alla segretaria Ellie Schlein bene quindi insomma per chi è appassionato di politica nazionale di appuntamenti sul territorio ce ne sono diversi e adesso parliamo di sport parliamo di sport perché no di cosa parliamo secondo te secondo me del nuovo allenatore che noi ieri abbiamo dell'allenatore del Rimini che si chiama Truise giusto? e di nome? Emanuele brava mamma mia caspita ne sai più te di sport di quanto ne so io di arte ieri mattina a tempo reale vi abbiamo fatto vedere grazie anche al collegamento con il nostro Roberto Bonfantini un pezzetto della sua prima conferenza stampa da allenatore tra l'altro proprio il passaggio in cui ricordava il legame anche con Gabriele Raimondi legame che ha unito entrambi a Mijailovic per un'esperienza che hanno fatto insieme e quindi insomma lo ha ringraziato ha detto anche tutta la stima per il suo il suo lavoro ora Rimini cerca un nuovo corso vedremo perché questa settimana tra l'altro Rimini gioca di lunedì sera vi anticipo già che ci saranno diversi cambiamenti anche per quello che riguarda Cancio.basket ma poi leggete le nostre pagine sportive di Carosport e Roberto vi darà tutte le informazioni del caso però gioca lunedì sera alle 20.45 vogliamo sentirla la voce di Truise? ma sentiamola la voce di Truise credo che fosse accompagnato anche dal vicepresidente Angelo Sanapo ci piace la sua idea di calcio è un allenatore che è riuscito da un punto di vista tattico e soprattutto a dare intensità alle sue squadre ad avere sempre squadre propositive e attente da un punto di vista tattico abbiamo pensato che le sue idee potessero in questo momento risollevare la squadra da questa situazione di classifica sono un allenatore che ha cominciato circa 12 anni fa ha fatto un percorso molto formativo partendo dalla collaborazione di prima squadra in C in Viena per poi cominciare un percorso a Caserta con la Beretti e da lì tutte le categorie allievi nazionali gli anni di primavera e tre anni fa il primo approdo nelle prime squadre a Mantua il girone il girone B come prima esperienza promossa e per poi fare due anni a Cava anche lì dove sono uscito al di là di quello che è stato il mancato obiettivo finale sono uscito come allenatore un allenatore molto molto migliorato secondo me per l'esperienza fatta come considera l'opportunità Rimini? è un'esperienza importantissima un'opportunità grande stimolante motivante che cercherò di difendere con tutto me stesso perché ci sono i presupposti per stare a lungo qui e vorrei rimanerci da quale modulo partirà? stiamo utilizzando una difesa a quattro in questi giorni per capire se ci sono i margini per dare delle alternative rispetto a quanto a quanto abbiano fatto fino ad oggi punterò soprattutto su quella che è l'espressione di gioco e su quello che i ragazzi dovranno poi attuare che squadra ha trovato? a dove può arrivare questo Rimini? classica squadra che nel momento in cui non arrivano i risultati il morale è giù e c'è un po' di sfiducia ma dobbiamo guardare tanti lati positivi che ci sono e non alimentare quelli che possono essere alibi piuttosto che condizioni negative non è il momento siamo solo alla settimana di campionato c'è tutto il tempo per trovare l'amalgama trovare un'unità di intenti importante e quindi fare un leva su quello e avevo dimenticato un nome il primo a parlare è stato il direttore tecnico Bianco Rosso Antonio Di Battista il direttore mi ha già minacciato di licenziamento quindi probabilmente dal lunedì non sarò più qui ma ci sarà qualcuno sicuramente più bravo di me perché basterebbe fermare uno per la strada farlo salire ma non dire così ma non dire così guarda lui dice per avere di spiegato Andrea sei bravissimo il tema di calcio è arrivata anche la notizia che molti tifosi bianco-rossi speravano spiegavano perché il Rimini ha preso 18 gol sul banco degli imputati è salito il portiere Colombo e allora il Rimini ha deciso di puntare sul plurale perché il nuovo portiere si chiama Colombi se ne mettono due in porta all'inizio ho detto non c'è solo Colombo c'è Colombi allora ce ne mettono due veramente si chiama Colombo il nuovo quell'altro si chiama Colombo credo proprio di sì mi sembra vado a memoria ma ci credo cerca come si chiama il portiere dove devo andare a vedere guardi intanto ti dico che il nuovo portiere si chiama Simone Colombi è un classe 91 quindi un portiere esperto che tra l'altro ha alle spalle 10 presenze in serie A 196 presenze in serie B e 36 in serie C quindi vuol dire che è un portiere che la maggior parte della sua carriera attualmente se l'è giocata tra i cadetti quindi insomma deve essere un portiere valido che ha vestito le maglie del Parma del Carpi del Palermo del Padova del Cagliari quindi anche di squadre importanti nell'ultima stagione 25 presenze con la maglia della Regina tra l'altro un investimento a lunga scadenza media lunga scadenza perché il contratto firmato è per due anni con un'opzione per il terzo e diciamo che quando si leggono questi numeri sono numeri che lasciano anche intendere le intenzioni della società perché ovviamente spesso abbiamo visto società nel Rimini firmare calciatori per un anno e poco più in questo caso il fatto che si mettano già le basi non solo per l'anno in corso ma anche per quello futuro ed eventualmente per quello dopo ancora lascia pensare che ci siano tutte le basi perché la società resti sul territorio resti a guidare il Rimini per lungo tempo allora avevi perfettamente ragione l'altro portiere del Rimini si chiama Edoardo Colombo è molto più giovane perché in realtà ha 22 anni è un 2001 quindi ha 10 anni meno rispetto a Colombi sì e tra l'altro credo forse questo è per agevolare i cronisti credo che nella scorsa stagione fosse allenato proprio da Truise Colombo ah vedi Colombo cioè quello che è attuale quello che già c'era ok perfetto non in plurale no che sì no però secondo me per agevolare i cronisti così se tu sai che più o meno quello si chiama uguale praticamente identico mi dice scusa mi sono confuso una O per una I e vedremo insomma se andrà subito tra i pali nella prima penso proprio di sì nella prima per Truise oppure oppure no vedremo insomma adesso vediamo lunedì quale sarà la squadra messa in campo dal nuovo allenatore mamma mia come hai imparato quelle due o tre frasi che ti possono aiutare a cavartela in ogni è così fuori di un soffio hai proprio ragione hai proprio ragione allora spila a fondo campo ma sì però ci sono proprio dei termini che non mi entrano a me non mi entrano allora invece adesso abbiamo pochi minuti alla fine perché vogliamo essere bravi oggi venerdì gli amici di faccio cose vedo gente hanno una passata super frizzante da proporci noi invece siamo lisci e quindi intanto ricordiamo però come frizzante monaretto dall'altra parte del vetro mamma mia l'allegria è l'allegria è prontissimo sta già preparandosi per la sua trasmissione lì che trova notizie per tornare a casa tra un po' vuole bypassare abbiamo un po' di foto abbiamo almeno una foto da farvi vedere che Andrea guarda già e rimira dalle nove di questa mattina ho smesso di guardarla per evitare di andare in onda con la cuolina in bocca e poi così poi vi ricordiamo anche gli appuntamenti del fine settimana ma partiamo con la foto del vostro piatto del giorno prima di tutto salutiamo Giorgio che dice che per noi sono tempi di dieta quindi per le foto alle pietanze sono momenti durini per noi tutti anche per me dovrebbe essere tempo di dieta poi dice anche così l'aliminio ha preso due colombi con un piccione no un viaggiatore va bene ci arrivano anche i saluti di Valentino che noi ricambiamo di cuore e noi passiamo invece al piatto forte della nostra trasmissione che a questo punto possiamo dirlo sono le foto che ci arrivano da Lella arrosto di maiale con sughetto di verdure e pure e sappiamo che questo poi ti ha dato anche l'input per questa sera altrimenti passi da Lella prendi prendo su uno scartuccino come si suol dire io non disdegno però secondo me Lella chissà come l'ha fatto il purè sei con le patate vere la Lella secondo me l'ha fatto con le patate vere non come te ma ci vuole un attimo tra l'altro a fare il purè dopo non viene sempre bene perché la patata deve essere ben cotta dopo lo lasci coi grumi lo so come fai te ma cosa dici ma sì perché sei distrati squilla il telefono come se quando sei qua mentre sei lì che si stai squilla il telefono ti distrai ieri sera cucinavo mentre guardavo uno speciale che dovevo inviare quindi ero lì che guardavo lo speciale intanto cuocevo le cotolette le cotolette detto così alla milanese cotolette buone cotolette certo le ho preparate io ovetto condito con un po' poi dopo pane grattugiato poi però ho guardato lo speciale ci ho anche messo un po' di farina di mais che me le crocca che me le crocca va bene basta mando a Nunzio il video di Andrea così Nunzio è tranquillo per tutto l'inverno voi se lo volete scrivete video di Andrea vestito come un palombaro 0337511336 vi rallegra ogni giornata anche perché l'ultima cosa che farò in questa trasmissione è da lunedì ci sarà più che altro perché per lunedì potrebbe esserci maltempo e quindi magari dobbiamo continuare a sorridere anche se non ci sarà più il sole che ci mette quel entusiasmo volevo dire che comunque il piatto che ci ha presentato Lella ci porta un po' nelle dinamiche autunnali infatti lei dice questa mattina è freschino cominciamo con i piatti autunnali poi lei se non sbaglio sta nella zona dell'Alta Val Marecchia quindi lì forse ancora un pochino più freschino e poi ci si abitua a quello che saranno i prossimi giorni dai sì sì infatti questa idea dell'autunno che arriva secondo me ci sta anche nei piatti e poi tra un po' cambia l'ora vabbè l'ultima domenica di ottobre se ancora cambia cambiamo ancora l'ora giusto e comunque l'ultima domenica di ottobre ancora manca qualcosa credo che due settimane ci stiamo afflosciando sul finale quindi è il momento del picco quando diciamo che la puntata è finita e facciamo il picco di ascolti domani la diretta Basilica Cattedrale 17.30 e quindi insomma anche per chi non riesce ad essere presente fisicamente ci siamo noi diretta radiofonica e televisiva invece tra pochissimo diretta di Faccio Cose Vedo Gente e lì sì che c'è il picco lì c'è il picco di ascolti sicuro e anche di entusiasmo buona giornata a tutti Andrea divertiti questo fine settimana riposati lunedì ti voglio frizzante ma è fresco come una rosa mi è già arrivata la lettera la lettera di che cosa? licenziamento da chi? Andrea dopo ti dico buona giornata Tempo reale l'informazione in diretta della provincia di Rimini cioè Autore dei sottotitoli